Sono nato nelle profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale ha aperto i miei occhi, ottenebrati da queste oscurità, utilizzando la torcia luminosa della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Om Ajnati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurum Miritam Yena Tasmahi Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Pahadaya Krishna Presthaye Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamihi Thinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sasunyavadi Phaśyatyadi Shatarine Vanchakalpa Taruphyascha Kripa Sindhubayevaccha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namunamah Jaya Shri Krishna Chetanam Prabhu Nityananda Jaya Dveta Gadadhar Srivasa Hadhi Gauhura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskrityam Naram Chayvanurottamam Narayanam Devim Sarasvatim Ghyasa Tato Jaya Udira Yed Buonasera a tutti Al nome del nostro maestro spirituale fondatore Acharya ovvero sua divina grazia Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada Vi do il benvenuto Benvenuti a tutti A titolo personale vi ringrazio per essere qui per aver scelto di passare in questo modo il vostro tempo prezioso Oggi, 54esimo episodio di questa serie di questa rubrica Narrazioni Vediche tratteremo il tema legato alla natura empia e alla natura divina Ma prima di fare questo, come spesso accade, abbiamo qualcosa da risolvere Innanzitutto salutiamo Tony, Joelle, Luciano, Michelle e Angela Grazie per essere qui in diretta E volevo dire una cosa a Tony Questa settimana per me è stata molto impegnativa Ieri ho dovuto, dovuto, non è che è un piacere, un dovere ma ho preso l'impegno di fare la conferenza qui alla comunità di Prabhupada Desh Omaggi a te, Mauri, benvenuto E quindi non ho avuto modo di approfondire la tematica che tu mi ponevi la volta scorsa Ma comunque credo, e tu mi dirai se sei soddisfatto Quello scambio che abbiamo avuto di messaggi possa essere sufficiente Per, diciamo, indirettamente rispondere alla tua domanda Non è mia competenza fare dei paragoni con qualcosa che non conosco Quindi magari se avrò più tempo e mi potrò informare di più In futuro potrò cercare di approfondire quella tematica che tu hai proposto Ma andiamo alla domanda di Mauri Allora, la volta scorsa ci siamo soffermati Anche per un lasso di tempo più breve del previsto Su l'aspetto della Ugra Bhakti In effetti, Mauri, devo ringraziarti per questa domanda Perché in previsione c'era la voglia di parlare un po' di più di questo aspetto Ma il tempo non mi ha permesso di approfondirlo abbastanza Quindi ti ringrazio per questa domanda Che mi permette di approfondire questo tema dell'Ugra Bhakti Grazie Tony Sono contento che tu abbia capito il mio imbarazzo Davanti a un tema che non conosco Hare Krishna Allora, Ugra Bhakti Domanda di Mauri È la seguente Allora, intanto, cos'è Ugra Bhakti? Bhakti lo sappiamo tutti Che è un servizio che si offre al Signore Ora, per quanto strano possa sembrare Oltre a quei cinque servizi Quei cinque rasa che sono di base I rasa più importanti Ci ne sono altri sette E tra questi Che sono, diciamo, minori Come rasa, come relazioni E tra questi c'è proprio Un rasa basato sulla collera Quindi il punto è che ci si può relazionare con il Divino Anche con un sentimento di collera Ed è esattamente quello che succederà Ai nostri due guardiani di Vaikunta Jaya e Vijaya Che dopo essere stati maledetti Scenderanno Cadranno nel mondo materiale Benvenuto anche a te, Pietro Hare Krishna Allora, quindi Ugra Bhakti Significa Relazione col Supremo Basato su un sentimento di collera È possibile? Certo che è possibile Perché tutto quello che riguarda il Signore Tutto quello che riguarda una relazione con Lui È altamente purificante Quindi anche stabilire Una relazione Legata a un sentimento di collera È una forma di purificazione Questo è Ugra Bhakti Ma torniamo alla domanda di Mauri Prabhu Chi può usare Ugra Bhakti? Prima domanda Potrebbe confondere alcuni Che manifestano interesse per Dio Ma rompono i principi regolatori? Atio che bestemmia Può essere Ugra Bhakti? Grazie Allora, potrebbe confondere alcuni Che manifestano interesse per Dio Ma rompono i principi regolatori? Questo punto Magari se hai voglia di svilupparlo un po' meglio Perché sinceramente Come è posta la domanda Non mi dà chiarezza Poi se vuoi, Mauri Puoi propormela magari con un'altra Con un'altra formula Che io possa capire meglio Potrebbe confondere alcuni Che manifestano interesse per Dio Ma rompono i principi regolatori? Se qualcuno Mostra interesse per Dio E sviluppa un sentimento per lui Anche se rompe i principi regolatori Comunque sta praticando la Bhakti La Bhakti va al di là Di quelli che sono i principi regolatori Ti spiego in poche parole Qual è il motivo per cui i devoti Seguono i principi regolatori Che ricordo sono Non mangiare carne, pesce e uova Non prendere sostanze intossicanti Non praticare una vita sessuale regolata E non giocare d'azzardo Questi quattro principi regolatori Sono legati a una vita Sotto l'influenza della virtù Quindi di per sé I principi regolatori Non hanno nulla di spirituale Permettono soltanto al praticante Al sadaka A chi si impegna nel servizio devozionale Di raggiungere una piattaforma La piattaforma appunto del sattva guna La piattaforma della virtù Ma anche se può suonare strano Sentire questo Si può manifestare un sentimento di batti Quindi un sentimento verso il Signore Anche se non si seguono i principi regolatori Ovvero I principi regolatori ti offrono l'opportunità Di stabilirti su una piattaforma Da cui è possibile Raggiungere la comprensione spirituale Senza la piattaforma della virtù Generalmente Non si può neanche accedere Cioè è come un trampolino di lancio L'influenza della virtù Il sattva guna Però poi bisogna lanciarsi Se uno anche vive una vita di principi regolatori Ma poi non pratica la vita spirituale Rimane lì Ma ci sono casi Molto più rari Eccezionali In cui possiamo aver visto Anche nelle storie vediche Le persone che non seguivano nessun principio Ciò nonostante Praticavano la bhakti Quindi batti e batti Virtù e virtù Nel frattempo ci ha raggiunto anche Claudia Hare Krishna Benvenuta Ti faccio un esempio Ci sono quattro principi regolatori Uno di questi è non mangiare carne, pesce e uova Ma c'è Garuda Che è l'aquila portatrice O portatore Meglio dire portatore di Vishnu Quindi Chi meglio di lui È un devoto del Signore Ma Possiamo pensare che un'aquila Possa essere vegetariana? Sicuramente Garuda Non segue il principio Del non mangiare carne, pesce e uova Il suo cibo preferito sono i serpenti Ciò nonostante Il portatore di Vishnu Adesso questo tema potrebbe Provocare anche dei frantendimenti Generalmente Generalmente Per ottenere Un inizio di vita spirituale La pratica Dei quattro principi regolatori È necessaria Ma Non Il servizio devozionale Il bhakti yoga Non dipende dai quattro principi regolatori Se così è più chiaro Quindi Ritornando alla tua domanda Potrebbe Confondere alcuni Che manifestano interesse per Dio Ma rompono i principi regolatori? Credo che la risposta Se ho capito bene la domanda È no Perché ripeto Si può praticare Praticare Una forma di bhakti Anche senza seguire i principi regolatori E noi Abbiamo avuto Tanti esempi Questo non vuol dire Che noi adesso possiamo dire Basta Allora non serve seguire i principi regolatori Perché generalmente Il sadaka Quindi La persona Il devoto Che seguono disciplina Segue la disciplina Degli principi regolatori Ma non sono I principi regolatori Che ci portano La bhakti Domanda successiva Atti o che bestemmia Può essere Uga bhakti? E qui la risposta Non può essere Che sì Abbiamo raccontato La volta scorsa La storia di Shishupala Shishupala Continuava A bestemmiare Continuava a criticare Continuava a ingiuriare Krishna Ciononostante Continuava a pensare a Krishna Pur in un sentimento di collera E Adesso sto entrando in un dettaglio Che magari sarebbe venuto fuori dopo Shishupala E una Delle manifestazioni Di Jaya e Vijaya Allora Quando Jaya e Vijaya Cadono Nel mondo materiale La prima forma Che prendono Cioè Il punto è Che Loro devono passare Tre vite Come demoni E Nella loro Prima nascita Di demoni Nascono come I Ranyaksha E Ranyakashipur Storia che fra un po' Cominceremo a raccontare Hare Krishna Mina Benvenuta Ma Nella terza manifestazione Come demoni Jaya e Vijaya Nascono Come Shishupala E Qualcun altro Però Adesso ho troppi dettagli Se no Mi brucio il finale Quindi Shishupala Altri Non è che Vijaya Nella sua terza manifestazione Come demone E Cosa fa Shishupala Come abbiamo raccontato L'altra volta Continua Costantemente A Ingiuriare E Ad insultare Krishna E quegli insulti Siccome continua A pensare a Krishna Krishna Non guarda Il motivo per cui Tu lo stai Lo stai Stai avendo a che fare Con lui Krishna È felice Solo del fatto Che tu interagisci Posso fare Un esempio Legato anche Le relazioni materiali Ci sono persone Che ci possono Volere bene Persone che Ci amano E ci sono persone Che ci vogliono Male Persone che ci odiano E poi ci sono Le persone Che ci sono Completamente Apatiche Indifferenti Quale Delle tre Tutti noi preferiamo Preferiamo le persone Che ci amano Anche se poi Sono quelle Che quando Arrivano Momenti di Scintille Sono quelle Che ci odiano Di più No Succede così A livello materiale Tanto più amo Una persona Tanto più La odierà Nel momento In cui Arriva il disaccordo Ma non voglio Non volevo dire Questo Mi è sfuggito Esula dal contesto Allora Sicuramente Noi Desideriamo Che le persone Ci amino Che abbiano Con noi Una relazione D'amore Che ci vogliano Bene Ma poi Abbiamo a che fare Anche con persone Che non ci vogliono Bene Ma Le persone Che sono apatiche Nei nostri confronti Le persone Che sono indifferenti Forse sono quelle Che più Sono lontane Da noi L'indifferenza È peggio Dell'odio Non so se avete Mai sperimentato A questo punto Hare Krishna Angelo Benvenuto C'è Noi preferiamo Le persone Che ci vogliono bene Relazioniamo Con le persone Che ci vogliono male Ma non possiamo Fare niente Con Con gli indifferenti Se qualcuno È differente Nei vostri Nei vostri Confronti È la cosa È la relazione Peggiore Che ci possa esistere Perché non c'è Relazione Né nel bene Né nel male Quindi Dio Sebbene Preferisca Che noi Manifestiamo Un sentimento D'amore Nei suoi confronti Accetta anche Che quel sentimento Non sia d'amore Ma d'odio Di collera Ma non sopporta Agli indifferenti Hare Krishna Mariu Benvenuta Ok Già Mauri Si sta preparando Per un feedback Verso la fine Così poi sappiamo Già di che cosa Parlare Nella prossima puntata Grazie Mauri Questi Scambi Mi permettono Di approfondire Certe tematiche Allora Io ancora la domanda Non l'ho conclusa Perché è un tema Molto molto ampio E vorrei Diciamo Proporre un altro aspetto Ancora Allora Fino adesso abbiamo capito Che la relazione Con il Supremo È comunque Benefica Da qualsiasi Sentimento Noi abbiamo Verso di Lui A parte L'indifferenza E da questo Possiamo Comprendere Che Anche le persone Atee Che Ingiuriano Che Offendono Il Signore Comunque stanno Praticando Nel loro piccolo Un aspetto Legato Alla Bhakti C'è una relazione Questo è il punto C'è un rasa C'è una relazione Ma La cosa peggiore È L'indifferenza Ora Io direi Che ci sono Due tipi Di ateismo Di quelli Che sono Completamente Indifferenti Dicono Di non credere Basta Ma non sono Assolutamente Interessati A Dio Se c'è Non c'è Come direbbero A Roma Non gliene può fregare De meno Non hanno Stabilito Nessuna relazione Con Dio Non ci credono E basta Ciò nonostante Lo bestemmiano Perché A volte Certi Certi Epiteti Sono Nella loro bocca Ma Non hanno Nessun valore Non hanno Nessun senso Ebbene Quelle persone Dal punto di vista Della tua domanda Quelle non fanno Nessun avanzamento Seppur Nel sentimento Della collera Perché non c'è Collera In ultima analisi Mentre Quegli atei Che sono tali Perché Fanno Un ragionamento E Ce l'hanno su Con Dio Per qualche ragione Perché Non Corrisponde Alla loro visione Della vita Quei tipi di atei Quelli sì Che fanno Avanzamento Perché stanno Stabilendo Una relazione Con Dio Una relazione Di collera Ma dovuta Alla ricerca Della comprensione E io ti posso dire Questo Perché l'ho sperimentato Sulla mia pelle Io mi facevo Tante domande Sono stata Sempre Una persona inquisitiva E mi rivolgevo Ai rappresentanti Della Religione Ai rappresentanti Di Dio Per Avere delle risposte Alle mie domande E le risposte O non mi arrivavano O non le capivano Probabilmente Non ho trovato Dei buoni rappresentanti Di Dio E a quel punto Il mio sentimento Verso il Signore Era un sentimento Di collera Non credevo in lui Perché non ricredevo Nei suoi rappresentanti Anche questo Sarebbe un altro tema Molti Si confessano atei Ma in realtà Non sono atei Per niente Non credono Nelle istituzioni Religiose Perché E diciamolo francamente Molte istituzioni Religiose Ne hanno combinate Di tutti i colori E continuano a farlo Le guerre In nome di Dio Gli americani Che scrivono Sul dollaro In God we trust Noi abbiamo fede in Dio E gli stermini Di popolazioni In nome di Dio Gli spagnoli Che sono arrivati Nell'America Latina Avevano da una parte Il crocefisso E da un'altra parte La spada O accetti Dio O ti tagliamo la testa Quante ne hanno combinate Le persone Prendendo come scusa La religiosità Gli atei Da un certo punto di vista Non hanno tutti i torti Quando i rappresentanti Del divino Non lo rappresentano affatto E mettono in cattiva luce Anche il divino E a quel punto Nasce una certa forma Di ateismo Ateismo Che nasce Dalla non comprensione Di chi è Dio Poi questi stessi atei E io ne sono un esempio Diciamo Vivente Quando trovano qualcuno Che è un buon rappresentante Di Dio E che sappia Dargli a loro Delle giuste risposte A quel punto Diventano devoti Allora Mauri Con questa domanda Con questa considerazione Mi stai facendo in mente Venire in mente Una persona Allora intanto Leggo la tua La tua considerazione Ho visto un ateo Leggere Iveda Solo per provarli A confutarli Ok Per intanto Ha letto Iveda Mi fa venire in mente Una storia Posso dare anche Qualche dettaglio C'è stato un periodo Che io e mia moglie Govinda Nandini Abbiamo vissuto in Puglia Esattamente Dal 94 Al 2007 E Andando in giro Per i paesi Io ho sempre cercato Di portare un po' La La misericordia Che ci ha dato Prabhupada In forma di libri Alle persone E In un paese Di vicino Dove abitavo A Ginosa Ginosa In provincia di Taranto Ho conosciuto Un Vigile urbano Io quando l'ho visto Arrivare Vestito da vigile Ho detto Ai 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 Qua magari Questo qua Mi vuole Disturbare No Di solito Quando vai in giro A distribuire libri Vestito da devoto Con il Doti Il Tilak Le forze dell'ordine Ti mettono Ti mettono Un po' Sul chi va là E questo Mi si avvicina Mi fa Ma tu sei un Hare Krishna E io ho detto Sì Hai bisogno di qualcosa E mi fa No Io vi ho conosciuto Io ero Una persona Molto atea Molto non credente E Uno Tuo Con fratello Mi ha proposto Dei libri Da leggere E io li ho acquistati Perché ho detto Adesso li leggo Così posso confutarli Ed è diventato Devoto Questo vigile Questa è la forza Della coscienza Di Krishna Quindi Funziona esattamente Così Funziona esattamente Non importa Come tu vieni a contatto Con la coscienza Di Krishna Ti faccio un altro esempio E questo è legato A Shila Prabhupada Ai primi tempi In cui Shila Prabhupada Stava predicando La coscienza di Krishna In America Qualche giornalista Si interessava Ai Ai devoti E scriveva Qualche 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 Articolo E i devoti Puntualmente Quando vedevano Qualche articolo Sui devoti Andavano da Prabhupada A leggere L'articolo E Prabhupada Diceva Di che cosa parla E ci giudicano Una setta Lavaggio di cervello E Prabhupada Diceva Ma quante volte C'è scritto Hare Krishna Su questo articolo Ah c'è scritto qua C'è scritto qua C'è scritto qua Allora Questo articolo È favorevole A Shila Prabhupada Ne interessava Quanto parlassero male Dei devoti Questi giornalisti Interessava quante volte Era scritto Il santo nome Quanti Hare Krishna C'erano scritti Quante volte Si parlava I devoti Di Krishna Perché così Abbiamo letto La storia Di Ajamila Ve la ricordate Il santo nome Del Signore Purifica Anche nel momento In cui Tu lo canti Per indicare Qualcos'altro O anche Per scherzare O anche Per offendere Se durante Una processione Degli Hare Krishna I cosiddetti Hare Nama C'è qualcuno Che dice Ma quanto sono stupidi Sti Hare Krishna Krishna Non guarda Il fatto che Ha detto Che i suoi devoti Sono stupidi Guarda il fatto Che ha detto Hare Krishna Questa è la natura Di Krishna Per quanto incredibile Forse un giorno Riusciremo a capirla Krishna Non guarda Soltanto Gli aspetti positivi Come abbiamo raccontato La volta scorsa La storia di Putana Questa demone Che si era Cosparsa Il capezzolo Di veleno Per uccidere Krishna E Krishna Gli ha dato La posizione di madre Nel mondo spirituale Non ha guardato Che voleva ucciderlo Con il veleno Ha guardato Che gli voleva Dare il latte Questa è la natura Questa è la natura di Krishna Ora io potrei andare avanti Ancora molto Su questo tema Ma poi va a finire Come l'altra volta Che il tema di oggi Lo trattiamo A prima vista Spero comunque Che le cose Che io ti ho detto Abbiano dato Più o meno Una panoramica Come risposta Alla tua domanda Poi sono sicuro Che ci potrebbero dire Altri aspetti Potrebbero Diciamo Approfondire Su altri aspetti Ma questa è la realtà La realtà È che rivolgersi a Dio Con un sentimento Di collera È comunque Una forma Di purificazione Ma E concludo qui Krishna dice Nella Bhagavad Gita Mamma Naba Mamma Bacto Madhyajim Namaskuru Mamma Naba Mamma Bacto Pensa sempre A me E Magari Noi riuscissimo A pensare A Krishna Tanto quanto Lo pensava Kamsa Con il desiderio Di ucciderlo E tanto quanto Lo pensava Shishupala Con il desiderio Di continuare A ingiurarlo E di insultarlo Mamma Naba Bacto Pensa sempre A me Questo è sufficiente Per la purificazione Ma Non posso Dire l'ultima Non dire L'ultima cosa Il risultato Di colui Che si dedica Alla coscienza Di Krishna Quindi al Bhatti Yoga Con un sentimento Favorevole E che raggiunge Il mondo spirituale Entra nel mondo spirituale Entra nella relazione Tra L'anima E il divino Stabilisce una relazione Come amico Come servitore I cinque rasa Di cui Probabilmente voi conoscete Ma già che ci siamo Elenchiamoli C'è Shantarasa La Bhatti Su una piattaforma Neutra C'è Dassiarasa La pratica Devozionale Su una piattaforma Di servitore C'è Sakharasa La pratica Della relazione Su una Sentimento Di amicizia C'è Bhatsalarasa Ovvero la pratica Come familiare Genitore di Krishna Figlio di Krishna E poi c'è addirittura Madhurya rasa La pratica Diamanti di Krishna Questi sono i cinque rasa principali E poi ce ne sono altri sette Tra cui c'è il sentimento di collera Questi cinque rasa Sviluppati in maniera positiva Ti portano a sviluppare Una relazione con Dio Nel mondo spirituale Invece coloro che Praticano Ugra Bhakti Non raggiungono il mondo spirituale Non entrano nei passatempi di Krishna Sono liberati E si fondono nel Brahman E' un tipo di relazione diversa E come abbiamo visto altre volte E' comunque una forma di Relazione incompleta Perché da Brahma Jyoti Non si è arrivato a sviluppare Una relazione con Krishna Si è sviluppo Si si è fusi Si si fonde Nella verità assoluta Ma poi Si ricade ancora nel mondo materiale Perché Non c'è attività E l'anima è attiva Proprio per sua natura Quindi E' chiaro che è meglio Comunque Estabilire una relazione Con Krishna Con buone Prospettive Con buoni sentimenti Piuttosto che con sentimenti di collera Perché Con un certo tipo di Relazione Si raggiunge il mondo spirituale Con quell'altro tipo di relazione Quella sfavorevole Quella Ugra Bhakti Non si raggiunge Il mondo spirituale Ma La realizzazione Del Brahman impersonale Che è comunque una forma di liberazione Questo punto che Tu hai fatto Morgan Si Mauri Morgan A volte ti chiamo per nome A volte per cognome Anche se non credo che Morgan sia il tuo cognome È un punto Che è molto ampio Io L'ho voluto Ho voluto fare una panoramica E mi fermo Mi fermo qui O nel frattempo Ci ha raggiunto anche Giovanni Hare Krishna Benvenuto A questo punto Il tema di oggi Che vi ricordo è Natura Pia Natura Empia E le loro caratteristiche E a questo punto E vediamo che ore sono Le 18 e 32 Andiamo alla lettura Del Terzo canto Dello Shri Mat Bhagavatam Stavamo concludendo Il seguente capitolo Che è esattamente Il sedicesimo capitolo Hare Krishna Laura Benvenuta Allora L'ultimo verso Che abbiamo letto Era proprio questo Il verso 31 Quella che ha dato origine All'approfondimento Sull'Ugra Bhakti La Bhakti In un sentimento di collera Qui è il signore Vishnu Vishnu Krishna Insomma è sempre lui Che sta parlando Con i suoi due Devoti Servitori I due guardiani di Vaikunta Jaya e Vijaya Dice il signore Rivolgendosi A Jaya e Vijaya Praticando lo yoga Animati da un sentimento Di collera Vi purificherete Dal peccato Che avete commesso Disobbidendo ai Pramana E in breve tempo Tornerete a me Verso 32 Dopo aver pronunciato Queste parole Alle porte di Vaikunta Il signore Tornò Nella sua dimora Là dove volano Numerose aeronavi celesti E tutto splende Incomparabilmente Di ricchezza E di gloria Ma i due guardiani I migliori Tra gli esseri Celesti Videro Diminuire La loro Bellezza E il loro Splendore Per la maledizione Del Bramana E invasi Da una profonda Tristezza Caddero Da Vaikunta Il regno Del Signore Supremo Allora Mentre Giaia e Vigiaia Si allontanavano Dalla dimora Del Signore Un grande Clamore Di disappunto Si levò Tra gli esseri Celesti Che viaggiavano Sulle loro Splendide aeronavi Bramana Proseguì Questi due principali Guardiani Del Signore Supremo Sono entrati Ora Nel grembo Di Diti Essendo stati Ricoperti Dal potente Seme Di Cassiapa Muni Chi di voi Segue Da più tempo Questa rubrica Sa bene Da dove è partita Tutta la storia Da un'unione Diciamo Intima Tra due Personaggi In un momento Sbagliato A quel punto Come aveva Previsto Cassiapa Muni Sarebbe nato Dal grembo Di sua moglie Diti Sarebbero nati Dei personaggi Che avrebbero Sconvolto il mondo Con la loro Cattiveria Qui sta continuando A parlare Bramana E il valore Di questi gemelli Assura Che vi turba Assura vuol dire Appunto Demoni Malvagi E il valore Di questi gemelli Assura Che vi turba Poiché ha ridotto Il vostro potere Ma io Non posso Portare di media A questa situazione Perché tutto Avvenuto Per la volontà Del Signore Miei cari figli Anziana Verrà Il nostro soccorso Qual è L'utilità Quale utilità Possono avere Per lui Le nostre Deliberazioni Sull'argomento E qui finisce Il sedicesimo capitolo Del terzo canto Dello Shima Bhagavatam Che aveva come titolo Jaya e Vijaya I due guardiani Di Vaikuntha Maledetti Dai Saggi E cominciamo a leggere Il diciassettesimo capitolo Chi sta raccontando Questa storia In realtà È Maitreya Che sta parlando Con Vidura Perché come ho detto Più volte La struttura Narrativa Del Bhagavatam È che noi Ascoltiamo Storie Narrate Da chi Le ha sentite E da chi Le sta narrando Da chi Le ha sentite Da chi Lo sta narrando E questo ci fa ricordare La Guru Parampara La catena Disciplica Io sento E ripeto Io ho ascoltato E ripeto Io ho ascoltato E ripeto Io ho ascoltato E ripeto Omaggi anche a te Francesco Mariano Benvenuto Quindi primo Verso Del Diciassettesimo Capitolo Dal titolo Vittoria di Ira Naksha In tutte le dedizioni Dell'universo Sì Maitreya Disse Gli esseri celesti Abitanti Dei pianeti Superiori Si sentirono Liberati Da ogni paura Dopo che Brahma Che era nato Da Vishnu Ebbe spiegato Loro La causa Delle tembre Che ricoprivano L'universo Essi tornarono Allora Ai rispettivi Pianeti Gli esseri celesti Volevano sapere Come mai ci fosse Questo momento Di Tenebre Nell'universo Intero E Brahma Gli ha spiegato La ragione Raccontando La storia Che stiamo Narrando In questi ultimi Episodi Verso 2 La virtuosa Diti Temeva fortemente Che i figli Che portava In grembo Fossero causa Di sofferenza Per gli esseri celesti Come suo marito Aveva predetto Perciò Partorì I gemelli Solo dopo Una gravidanza Di 100 anni E questo Ne avevamo già parlato Alla nascita Dei due demoni Numerose Catastrofi Naturali Molto temibili E prodigiose Sopraggiunsero Sui pianeti celesti Sui pianeti Terrestri E nello spazio Intermedio Terremoti Sconvolsero Le montagne Sulla superficie Del globo E sembrava Che un incendio Dovesse devastare Ogni cosa Numerosi Pianeti Funesti Come Saturn Apparvero Nel cielo Insieme a lampi Comete E Meteore Qui una brevissima Spiegazione Di Shida Prabhupada Quando un pianeta Viene colpito Da catastrofi Naturali Significa Che un demone Appena nato Nell'età in cui Viviamo Il numero Degli esseri Demoniaci Aumenta E insieme Aumentano Le catastrofi Naturali Su questo Non c'è dubbio Come possiamo Comprendere La luce Degli esseri E già qui si potrebbe Approfondire Gli eventi Gli eventi Catastrofici Naturali Non sono dovuti Tanto A quello che ci raccontano Cambiamenti climatici L'inquinamento C'è una disarmonia Nell'universo Nell'universo Sempre più Come colpito Dal dolore E la confusione Assalì le creature Che vivevano Nelle sue Profondità Anche i fiumi E i laghi Si agitarono E i fiori di loto Appassirono Aloni nebulosi Apparvero Attorno al sole E alla luna Nel corso Di eclissi Ripetute Tutti eventi Che Cos'è che hai detto? Ah, grazie Grazie Mia moglie Mi ha suggerito Tutti eventi Nefasti Che si stavano Manifestando Per la nascita Di questi due Demoni Si udivano Colpi di tuono Nel cielo Completamente Sgombro E un tumulto Simile a un rumore Di carri Usciva dalle caverne Scavate Nelle montagne Le femmine Degli sciacalli Latravano Sinistramente Nei villaggi Vomitando fiamme E gli sciacalli E le civette Rispondevano Con i loro Gridi I cani Rezzando la testa Abbaiavano Qua e là Ora ululando Ora gemendo Ovidura Orde di asini Si misero a galoppare In tutte le direzioni Percuotendo La terra Con i loro Zoccoli duri E raggiando Selvaggiamente Spaventati Dal ragno Degli asini Gli uccelli Volavano via Dai nidi E mettendo Strida acute Mentre il bestiame Nelle stalle E nei boschi Urinava E defecava Le mucche Atterrite Davano sangue Invece Che il latte Le nuvole Facevano piovere Pus Nei tempi Le statue Degli esseri celesti Versavano lacrime E gli alberi Si schiantavano Al suolo Senza che ci fosse Il minimo Soffio di vento Pianeti Funesti Come Marte E Saturno Accrebbero Loro splendore E superarono Pianeti propizi Come Mercurio Giove E Venere E un gran numero Di case Lunari Sembrando Dare loro Corso Un moto Retrogrado Tutti i pianeti Rentrarono In conflitto Gli uni Con gli altri Osservando Questi segni E numerosi Altri Presagi Funesti Tutti gli esseri Furono assaliti Dalla paura Tutti Tranne I quattro saggi I figli di Brahma I Kumara Che erano Conoscenza Della caduta Di Jaya e Vijaya E della loro nascita Come figli di Diti Gli esseri Ignoravano Il significato profondo Di questi presagi E credevano Che la distruzione Del mondo Fosse imminente Questi due esseri Demonirci Apparsi In tempi passati Manifestarono Gradualmente Caratteristiche Fisiche Poco comuni Sembravano Come per coprire Il sole Con la loro vita Che la cinta Da eccezionali E splendide Cinture Ok Ci fermiamo qui Se me lo scordo io Per favore Ricordatemi Che siamo fermati Nel verso 17 Anche se in realtà Secondo i calcoli Avrei dovuto Fermarvi al 16 Ma non è importante Questo Cerco di farmi Uno schema Quando preparo Una Una diretta E nel mio schema Avremmo dovuto Fermarci Al 16 Che ripeto Questi due esseri Demoniaci Apparsi In tempi passati Manifestarono Gradualmente Caratteristiche Fisiche Poco comuni Sembravano Fatti di acciaio E crebbero Smisuratamente Fino A Somigliare A due Imponenti Montagne Spiegazione Dice La Prego Padre In questo mondo Esistono Due categorie Di uomini Gli esseri Demoniaci Giempi E gli esseri Celesti Le persone Pie Questi ultimi Si preoccupano Dell'elevazione Spirituale Della società Mentre i primi Si occupano Dello sviluppo Fisico E materiale I due Demoni I due demoni Nati Da Diti Cominciarono A coltare Ai loro corpi La robustezza Del ferro Ed erano Così alti Che sembravano Toccassero I confini Dello spazio Erano Ornati Di preziosi Ornamenti E consideravano Ciò Come la Perfezione Dell'esistenza Secondo il piano Originale Jai e Vijai A questi due Guardiani Di Vaikunta Dovevano Nascere Nell'universo Materiale E là Come conseguenza Della maledizione Dei saggi Dovevano giocare Il luolo Di esseri Che provano Una rabbia Costante Verso Dio La persona Suprema Ora Diventati Demoni Furono Sopraffatti Dalla collera Al punto Di non curarsi Affatto Del Signore Supremo Ma si Preoccupavano Solo Del loro Benessere Fisico E del loro Progresso Materiale Ok Quindi In questo mondo Esistono Due categorie Di uomini Le persone Pie Di esseri Celesti E le persone Empie I demoni Di questo Ne parla Da Bhagavad Gita E Come sempre Siamo arrivati Quasi già Di scoccioli Magari Andremo Avanti Anche La prossima Volta Perché Sono Già Le 18 47 Ci sono Due Versi Della Bhagavad Gita Esattamente Nella Settimo Capitolo Mi sono Mi sono Soffermato Un attimo Perché vedo Una domanda Giusto per Allora Nel settimo Capitolo Nel Nel sedicesimo Verso Scusate Sì Nel sedicesimo Verso Krishna Elenca I quattro Tipi di persone Che sono Da considerare Persone Pie E Sempre Nel settimo Capitolo Nel Senti Dove è andato a finire Ah Ecco Ho Voltato Pagina Nel Quindicesimo Verso Del settimo Capitolo Krishna Prima Elenca Le persone Di natura Empia Le persone Di natura Demoniache E nel capitolo Successivo Elenca Le Persone Di natura Pia Ora Siccome il tema È Ugrabati Gli assura I demoni Io direi Di quel poco Di tempo Che ci è rimasto Di trattare L'argomento Di quali sono Le caratteristiche Delle persone Empie Ma prima Leggo La considerazione Di Laura Che dice Come accadde Quando nacque Duriodana Che ci furono Spaventosi Presagi E come accade Quando uccisero Gesù Che ci fu un terremoto Il cielo si oscurò Perché Uccisero Un essere Celeste Questa è una considerazione Che sembra Che Che non faccia Che affermare E poi C'è Mauri Che dice Volevo dire Che la linea Di confine Che c'è Al confine C'è Tra La Narta Croda E Ugra Bakti A volte La prima Viene Quando Dio Non ti dà La lussuria E molto spesso Con loro Intossicanti Ecco Perché Dicevo Ugra Può essere Causata Da un uso Mal gestito Dei quattro Peccati Degli principi Regolatori È una domanda Poi magari La leggerò meglio E poi riguardo La bestemmia Cosa pensi Prabhu Dell'Incip Tvaccio Vega Allora La bhakti È indipendente Ma se fosse Il livello Del bhakta A governarla Come sempre Mauri Fa Molte domande E Le leggerò Con più calma E sicuramente Entriremo ancora Nel merito di questo Nel prossimo episodio Ora Ripeto Con quel poco di tempo Che mi è rimasto Siccome La Puntata Di oggi Avrebbe dovuto Trattare E in parte Lo abbiamo fatto La natura divina E la natura Demoniaca Ovvero La natura Pia E la natura Empia Ci sono Come ripeto Due versi Della Bhagavad Gita Molto importanti Che entrano Nel merito Di questa Descrizione Krishna Descrive In maniera Abbastanza Dettagliata Quali persone Sono di natura Empia E la ragione Per cui Sono di natura Empia E quale Persone Sono di natura Pia Nello specifico Krishna Usa termine Sukritina Per parlare Delle persone Virtuose E Duskritina Per parlare Delle persone Empie Come ripeto Siamo nel settimo Capitolo Della Bhagavad Gita E il primo verso Che prenderemo In considerazione È il verso Quindicesimo Che dice Che dice esattamente Promettono E poi E poi ci sono Contrario Di Dama 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 Significa Elevato Quindi Se Dama Significa Elevato C'è L'alfa Privativa Adama Indica Il più basso Quindi La seconda Categoria Di esseri Di natura Empia Sono considerati I più bassi Nel genere umano E poi Ci sono Maiaia Apparitia Ghiana Questa Parola Questa Composizione Di varie parole Indica Che Praticamente Le persone Hanno Conoscenza Questo tipo Di persone Che non si Abbandonano A Krishna Hanno Conoscenza Ma la loro Conoscenza È rubata Da chi? Dall'illusione Maya E l'illusione Apparitia Vuol dire Rubata Ghiana E la conoscenza Quindi Sono coloro Che La cui conoscenza È rubata Dall'illusione Noi In questa Categoria Possiamo Pensare Anche a persone Che Hanno Un grande Una grande Conoscenza Magari Possono essere Dogenti Di qualche Cateda Universitaria Ma Non hanno Vera Conoscenza Perché Escludono Dalla loro Conoscenza La conoscenza Più importante La conoscenza Del divino Dell'anima Spirituale E della Relazione Che unisce L'anima Al Signore E poi Alla fine Ci sono Asura Asura Mbava Mascita E anche Questo Sono tre Termini Che indicano Qualcosa Asura E un altro Modo Per dire Appunto Sura Sura Vuol dire Luce Asura Anche qui L'alfa Privativa Vuol dire Che sono Persone Tenebrate Sono persone Asura Significa Proprio Questo In ultima Analisi Shila Prabhupada E dobbiamo Dirlo Traduce Il termine Asura Come Demoni Punto Ma Il vero Significato Che si può Dare Non il vero Un altro Significato Diciamo Un'altra Accezione Di questa Parola È Molto Molto Diciamo Consona E Gli ottenebrati Coloro Che non Hanno Luce Asura Bavam Ascita Ascita Significa Che prendono Rifugio Bavam Significa Natura Quindi Sono Coloro Che Deliberatamente Prendono Rifugio Nella natura Dell'oscurità Quindi Sono Deliberatamente Empi Non c'è Qualcuno Che li Obbliga Proprio La loro Natura Queste Sono Le quattro Categorie Di Persone Empie Di persone Namam Duskriti Nomuda Che sono Duskritina Che sono Empi Prappadiante Na Radama Ovvero La loro Natura Empia Viene suggerita Da un solo Principio E questo Principio È Prappadiante Namandus Fitinomuda Prappadiante Che non si Abbandonano Alla volontà Del Signore Vedo nuovi commenti Guardo L'orario 57 Allora Ho solo Elencato Queste Quattro Persone Di natura Empia Che sono Gli atei E Questo punto Io lo vorrei portare Avanti Anche Nel prossimo Episodio Perché La Bhagavad Gita Non solo Nel Settimo Capitolo Nel Quindicesimo Verso Elenca Questi Quattro Tipi Di persone Che Hanno Una natura Empia Ma Nel Soprattutto Nel Diciassettesimo Capitolo Li descrive In maniera Ancora più Approfondita Quindi Io mi fermo Qui Vi ricordo Solo Che abbiamo Parlato Di questo Bellissimo Verso Del quindicesimo Del settimo Capitolo Della Bhagavad Gita Vi consiglio Vivamente Di studiarlo Perché È importantissimo E Elenca Quattro Tipi Di persone Che Non si Abbandonano Alla volontà Del Signore E Li Giudica Come Muda Ovvero Le persone Sciocche In ultima Analisi Ripeto Muda Vuol dire Asino Naradama I più bassi Del genere Umano Maya Yappari Tiagyana Colui Coloro La cui Conoscenza C'è Ma è rubata Dell'illusione E Asurambava Mashitam Coloro Che prendono Volontariamente Rifugio Nella natura Assurica Nella natura Demoniaca Nella natura Empia Detto questo Sappiamo già di che cosa Dobbiamo parlare Nel prossimo episodio Vedo che ci sono Dei nuovi commenti Cercherò di leggerlo Di leggerli Quello di Mauri L'ho già letto Con questo cellulare Faccio un po' Fatica Vediamo un po' Se qua vado meglio Un attimo di pazienza Dovinda tu hai un cellulare Aspettate che forse ce la faccio Allora 26 messaggi Questo l'ho letto Questo l'ho letto Sì No no Ho trovato Govinda Grazie Maddalena Ho visto adesso Che c'è anche Maddalena Marino In linea Scusa se non sono riuscito A salutarti Benvenuta Allora Michelle Fassion I simpatici Con il diamante In testa Poi c'è Mina Dice Bhagavad Gita Quindicesimo Questa sera Sì Bhagavad Gita Mina Settimo Settimo capitolo Quindicesimo verso Questa sera Lo studio meglio Mauri dice ancora Mi scuso Non vorrei tediare E sembrare difficoltoso Ma magari possiamo parlare in privato Se risulta argomento difficile Se vuoi Se vuoi Sì Possiamo anche sentirci in privato Perché Ripeto Tante volte sono proprio io Che non comprendo bene Come è formulata La domanda E quindi magari Do una risposta Che non c'entra nulla Con la domanda Poi Mino allo sito Capitolo 7 Verso 15 Sì Verso 15 Indica Le caratteristiche Delle persone Empie E poi Nel verso successivo Nel verso 16 Sempre dello stesso capitolo Elenca Le caratteristiche Delle persone Pie Verso famoso Chaturrida Bajantemam Ghiana Sukritinor Giuna Artogi Ghia Churartati Ghiani Chaba Radar Chaba Importante E Michel dice I serpenti I simpatici Con la diamanti In testa I serpenti Sì Capisco Dalle vostre Vostri messaggi Che Diciamo Sottintendete Delle cose Che dimostrano Che avete Indubbiamente Una Bella Conoscenza Io sono molto felice Di questo Delle Di quelle che sono Le informazioni Che ci danno Iveda Io credo Che possiamo Fermarci qua E di sicuro Sappiamo già Di quale argomento Parlare Nel prossimo episodio Mi scuso Con coloro A cui non sono Riuscito a dare Una risposta Qui ancora Mauri Che dice No Probù Sembra che sono Sembra che sono Complesso Ma grazie a te Che si cacciano Cose nascoste Nelle parole Sì Mauri Quando vuoi Ci possiamo sentire Non ti preoccupare Io ho sempre Piacere Di interagire Con te Perché Vedo che Sei una persona Molto Che studi Molto studioso Dei Veda E anche sempre Alla ricerca Di risposte Alle innumerevoli Domande Che noi Continuiamo A porci Possiamo Concludere qui Perché il tempo È volato Molto Molto Velocemente E ripeto Mi scuso Se qualche messaggio Non sono riuscito A leggerlo Purtroppo Quando sono Molti messaggi Faccio anche Difficoltà E Ad esempio Adesso vedo Michelle che dice Scusa ho scritto male Anche con te Quando vuoi Se vuoi daremi Qualche feedback Anche al di là Di quelle che sono Le dirette Perché come ho detto Anche l'altra volta Tony Questi Queste Questa chat Non è che finisce qua Finita la diretta Finita la chat Se voi mandate Qualche altro messaggio In chat Io posso leggerlo E magari se c'è qualcosa Posso anche rispondere Come ho fatto ad esempio Con Tony Che saluto Di cuore La volta scorsa Quindi la chat È sempre aperta Se c'è qualcosa Che vogliamo approfondire Io riuscirò Ad avere le notifiche Che state scrivendo Qualche cosa Vi saluto Saluto Marilu Saluto Mina Saluto Tony Saluto Tutti i presenti E vi ringrazio Infinitamente Abbiamo sicuramente Buon Buon materiale Di cui possiamo Che possiamo Approfondire Nella prossima puntata Nel prossimo lunedì Vi auguro Una buona serata Are Krishna Grazie a tutti.